Le immagini di Diego Di Mattia raccontano la memoria dei miei segni, segni che sono anche il mio sguardo sul futuro e muovono la mia mano che ha voglia di raccontare ancora tanto. Per questi motivi, questo progetto parlerà della mia famiglia, della mia vita, dei miei amici, dei miei colleghi, dei miei quadri, dei miei colori, cose che hanno contribuito a fare di me l'uomo di oggi. Grazie a tutti.